ma buonasera duellanti drago tricorno otk allora seguite la logica la logica anzi la mia logica è innegabile vi ricorda qualcosa questa frase è tipo tipo un film a caso allora c'è drago tricorno e il mazzo fa un otk con numero 100 evocato con il drago lubione grazie a drago tricorno perché un livello 8 che insieme agli altri fanno un livello cioè giusto no siete d'accordo o drago tricorno tk sulla base cypher che belli cypher io vi faccio una domanda ma secondo voi una carta magia normale con questo testo tipo evoca drago tricorno dal tuo deck sul terreno questa carta non può essere utilizzata come materiale da xyz da fusione da link da sincro e cagate varie ma secondo voi una carta del genere sarebbe troppo forte cioè sarebbe troppo sbagliata ti fa evocare un 2850 dal mazzo che può attaccare come come la vedete perché mamma konami snobba drago tricorno guardate che un drago indegno con tre corni che sputano non che spu che spuntano dalla sua testa un drago indegno ok secondo voi una carta del genere sarebbe troppo sgravata tipo la chiamiamo che ne so la chiamata del tricorno o la chiavata del tricorno la chiavata di maria ma alla tre per di drago tricorno tre per di maxi tre per di cyber ala tre per del rapace gemello de merda due cyber biplano un pericolo uomo tuono qua 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 cosa tre dragonebola due drago spirale una manticono un alfa il signore delle bestie reggei spolverino maestro risuscitato ragionando il nostro la nostra carta preferita fulme tempesta giro della prosperità tre per di doppia esplosione che può far diventare i livelli 4 8 a gratis wow e allora tre per giustamente no poi pianto d'argento per rievocare drago tricorno richiamato dal porco dio due solenni e tre avvertimenti solenni mentre adesso ci sono tutti i cypher inimmaginabili poi inimmaginabili ce ne sono quattro no tre no quattro però tre sono quelli giocabili tra virgolette poi oh no sbaglio no porco dio numero 46 numero 100 zeusse zeusse ok perché zeusse va sempre messo poi sti mazzi poi mascherona decodificatore e i mech cavalieri trascodificati che cazzo si sa allora drago tricorno o tk se noi attiviamo l'effetto del drago nebula evochiamo il drago tricorno drago rubione stacco evoco quella 9000 picchio o tk fa ma perché lo giochi coi drago tricorno perché bisogna stare zitti c'è proprio una regola il drago tricorno carta bellissima tra l'altro nel cassetto lì c'ho ancora secret bellissima da l d no come cazzo si chiamava quella cazzo di vabbè insomma una delle prime bustine ovviamente non l'ho trovata io poi me l'ho fatto a scambiare però allora partiamo per secondi perché è un tk open quindi se partiamo per secondi abbiamo una carta in più e se l'avversario perde male possiamo tkp no siete d'accordo per che dio vediamo un po c'è l'extra grande e mica è che mano di no aspetta che cazzo dico è una mano forte questa è un tk cioè con questa mano tu puoi potenzialmente tkpare l'avversario poi ci sono quelle piccole cose come l'avversario che gioca l'avversario che gioca albaz dispia l'avversario che lo prende in culo Gesù maiale del porco di dio ma a posto di spolveri non potevi darmi rai jacky perché se ci pensate rai jacky contro l'albaz cioè è una carta forte il culo parte c'ho il drago eh rai jacky picchio e se riesce a tkpare hai vinto porco dio quel cazzo ti aggiungi il drammaturgo cioè ce l'hai già in mano cos'è che è scartato ah la tragedia figli di puttano perfetto grande e se iniziavo io doppio warning porco dio voglio vedere come fusionavi cristo maledetto pezzo di merda con calma con tutta la calma del mondo perché? perché l'altra carta è esattamente rai jacky questa è rai jacky cosa fa il rapace figli di puttana? scartiamo una carta evochiamo un mostro cypher dal deck quel mostro cypher de merda che abbiamo livello 6 può diventare livello 8 e far diventare livello 8 anche il rapace quindi drago lupione stacco PRQ la leister così così lui è divertente ma può far diventare drago lupione ma picchio pic vinto cioè una roba facilissima a livelli clamorosi qual'è il problema? è che la prossima carta non è mai rai jacky ah gesù porcone sto mazzo de merda allora a me l'albazdispia piace cioè un mazzo carino non è che ti parti in modi sbroccati cioè ti mette un 3000 poi cazzo setti la magia cioè ti fonde di brutto però non è che dici oh mio dio ce l'ho contro ho perso a priori perché mi nega tutte le carte in mano no se tu hai le carte giuste lo puoi inculare tipo per esempio spolverino gli forzerò con cioè con spolverino gli forzerò la carta magia che si andrà a settare sicuramente a me lo penso poi con il rai jacky gli fai fuori tutto e lo ti cappi a meno che non ha veiler e cagate attenzione cioè neanche ha settato lui ne frega niente per esempio sa che lo spolverino ua rai jacky rai jacky giudizio solenne giudizio solenne cioè se io partivo con questa male fai che non c'era mostro risuscitato mi scartavo il rap cioè scartavo il piarculo ah bene bene benissimo andiamo proprio bene 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 benissimo per esempio qua adesso attiva l'effetto specchio drago perso eh sweat vittadina aspettanina attime fialdi però que giusto stronz però stronz tra la fancula madonna ecco per esempio i solenni peschiati per secondi ok possono andare contro sono d'accordo ma si iniziamo noi con quella mano lì Lui che faceva? Lui che cazzo faceva? Ma perché appena starto becco Albas Dispia? Ma mi puoi dare contro? Ne so, ma che cazzo ne so Dammi contro Numero Minchia, R Valentine, grande Facciamo la stessa cazzata di prima? Facciamo la stessa cazzata di prima? Certo che, vabbè, i solenni ragazzi I solenni nel mazzo sono 5 Cioè non è che sono 29 Su 40 carte I solenni sono 5 Me ne ha fatti pescare 3 Di secondo turno E adesso mi dà in mano Rai J Che sei un figlio di puttana Sei un figlio di puttana con amici in me Adesso il tizio 7 a 5 passo Se 7 a 5 passo butto la play fuori dalla finestra Perfetto Bene, grande Va, forte Quindi cosa sei? Cosa sei il deck cyber su quello lì che tutti i cap Oppure sei un nignister Che è peggio ancora Sei nignister Che sicuramente Tanto questo è un figlio di puttana C'è sicuramente C'è sicuramente Blossom 100% Cosa sei? No, sei un mate match Un meta match Un meta match 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 Meta match Per esempio questa è un'altra mano Con cui o ti capo C'è questa mano O ti capi Non grazie al drago tricorno Ma dio cane O ti capi Perché c'è il rapace C'è il rapacione E il regecchi Il rapace e il regecchi Fai 9.000 danni Porco Dio Porco di Dio Porco di Dio Ma c'è sempre qualcosa Porca Madonna Ma su tre carte in mano Ma dio porco Stronzo di merda E non bestemmiare Dio ti guarda Dio fa schifo Dio Fa schifo Porco Dio Sto gioco È come Dio Fa schifo Porca la Madonna puttana Porco Dio Fa schifo Fa schifo Vabbè Che problema c'è Almeno che Non fa una partenza Di quelle sgravate Clamorose Dove mi parte Con 53 mostri Ma c'ha tre carte in mano Cioè che cazzo Che cazzo devi fare Non lo so Non lo so nemmeno io Non ne ho la minima idea Questo ti fa fare Un'evocazione addizionale Stava bellissima Stai a signore bilanciamento Sì Se magari La team decidesse Di Oh team Team Ah ce l'abbiamo fatto Dai L'hai levato via Ok cosa fa Cioè poi Questo ha pagato mille Fa il discepolo link Quindi adesso Cala normale Fammi indovinare Il mille e quattro No No Il mille che si è giunto Quando queste carte Di migliorare L'uomo si è perso In tuo cimitero Evocalo specialmente Porco Dio Ho pescato già Ventitré carte No tre carte Però vabbè Fa niente Ok Va bene Questo No Solo una volta per turno Puoi fare ovviamente La cosa no Giusto Puoi pagare mille Ventiquattro volte Un'altra per turno Perfetto Adesso Cosa fa Senti Team Ma hai scassato le palle Team Ma hai scassato le palle Ma hai scassato i coglioni Più di sto metamatch contro Ma hai scassato le palle Cioè non puoi andare così male Cioè non puoi andare così male Team Ti prego Per favore Aiutami Aiutami Niente Se l'ha levato Se l'ha levato è tornato Sì però Questo tizio Non so se Magari è lento Ah Devoto link Perfetto Grande Se questa carta E' evocata specialmente Non puoi evocare Morsi link Livello 3 o superiore Se questa carta Viene collincata Inferta come tributo E' evoca due Segna cazzi Mamma mia che palle Gesù maledetto Pezzo di merda Che poi Devo stare qua Tre ore Dopo si becca Ray Jackie E la combo E lo ticapo Ma lui non lo sa Ray Valentine Non lo so Veiler Porco dio Entra bello Veiler Vabbè Quello quando viene tributato Cala due token Cioè che poi Se questo devoto link Cioè è anche carino Se ti Se ti facciava pescare una carta Senza Fartela rimettere dentro Porco dio Cioè nel senso Era pure una carta forte Porco dio Ma così Vabbè Lui non può fare più Link 3 O superiore Per il turno Non può fare 3 O superiore Però può fare mascherina Ah porco dio Vero può fare mascherina Ding dong Vabbè ma anche si fa mascherina Cioè mo Aspettate Mascherina con i token Non si fa Oh si No non mi ricordo Porco Gesù No non si fa con i token Non si fa con i token Mascherina No Con cosa si fa mascherina Cioè perché mascherina La puoi fare pure con le palle Quelle della gente Ok Oh ma prima è andata normale Ma Ma non è possibile ragazzi Cioè Io come Come cazzo sto messo Ieri Ho fatto una mini live Dove La connessione Non si è vista Cioè ho giocato tranquillamente Con la connessione Cioè la connessione Ti leva Ma Ma è lui che si sta rendendo Ma non è che è lui Dico Secondo me È R Valentine Perché non è possibile No no Non è R Valentine No Che cazzo vuole Cosa fa Vabbè Ah mascherina Si può fare pure con i token Ah due mostri non link Ok ok Ma mi ricordavo Che c'era questa limitazione Diceva due mostri non link Quindi puoi farla pure con i token Perfetto Mentre questo fa Che diavolo fa Mago a spruzzo Perfetto Mago a spruzzettino Mago a spruzzettino Ti va a ricalare Come si chiama lì Gesù maledetto pezzo di merda Sembra Che sia andando un po' più veloce Sembra però eh Non lo so Ok Non puoi più fare Devi passare È bello Valentine Devi passare Non puoi più fare niente Basta fare Link Curibo Qua Ok Il link Curibo Marutu Cazzo Quando la versione attiva La gara trappola Non l'attivo Vai tranquillo Eh Il problema adesso È Il problema adesso È che Grande Grazie Quella non è una brutta pescata Però Non è una brutta pescata Per niente Allora Se tu fossero controllo Un mostro che è evocato Speciale dell'extra Puoi evocare speciale La cypher Gemello De merda Siamo Siamo alle botti Siamo alla fine Ok Grazie Ho toccato qualche filo Sembra che la team Ecco Come non detto Ma io non sto zitto Porco Dio Perché non taci No Porco Dio Monocarte In mano Machine Ammazzati Ma Ma Vattene Affanculo Porco Dio Vattene Affanculo Vattene E questo Mi cala Avramax Adesso Avramax Non può essere Targettato Ma I cypher I cypher I cypher I cypher C'hanno Questa cosa Che Non lo so Cioè magari Non targettano I cypher Io che cazzo ne so Vabbè ma questo è un pirlone C'è proprio Un fesso C'è proprio Un fesso Dei fessi Ragazzi Il fesso Dei fessi Allora Vabbè che bello Scantiamo il dragutricorno Così entra Nell'otk Bellissimo Cioè ci sta di brutto Evochiamo Questa pezzo Di merda Qua Sta schifosa Però quello Non può essere Distrutto Vabbè ma che problema C'è Che problema C'è Evochiamo pure Questa La cyber Ala cypher Super mega Clappio Hands up Into the hand L'effetto Di questo Che ci fa diventare I livelli Giusto Ci fa diventare Appunto Due livelli Otto Perfetto Ovviamente La doppia esplosione Non ci serve Una minchia Perché non ci serve Una minchia E noi facciamo L'amico 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 Faceva il cypher Cypher Inculava Il Trascodificatore E abbiamo vinto La partita Oh però Drago Tricorno Devo dire che Ci è servito Per scartarlo C'è servito Di brutto Beh a tutti ragazzi Le cazzate dei video Sono clamorose Cioè Siamo tutti Che sto canale Ormai è così Fa solo cazzate Ci vediamo nel prossimo video Bella a tutti Drago Tricorno OTK Se volete Rispondetemi Ai commenti Cosa Rispondetemi Nel commenti Drago Tricorno The best Rispondetemi